C'è poi chi fa proprio il concetto di Fusion, mescolando stili e materiali. Noi pensiamo che il concetto del Fusion, inteso come mettere insieme delle cose molto diverse dalle altre, possa essere vincente. Noi presentiamo un progetto che si chiama Downtown, che è un pavimento in cui abbiamo messo insieme in modo improprio il cemento, i ciotoli come se fosse un marciapiede consumato, le pietre, in modo tale che possiamo pensare di cogliere varie sfumature del prodotto finale. E soprattutto un progetto da rivestimento e da pavimento, si chiama Papier, in cui abbiamo scelto una ventina di microtexture differenti, teoricamente inconciliabili l'una con l'altra, che però per un gioco di combinazioni cromatiche siamo riusciti, secondo noi, a mettere insieme in modo estremamente elegante e innovativo.